La passione irrefrenabile è di essere Maggiorette! Montecatini torna ad ospitare il campionato nazionale Maggiorette organizzato da Anbima e Maggiorette Sport World Federation. Le Maggiorette Montecatini dopo l'esperienza del campionato mondiale abbiamo ripreso la nostra attività a pieno titolo. Montecatini ci ospita ormai da un po' di anni, è un evento particolarmente importante, particolarmente significativo. 700 ragazze che faranno spettacolo in questi due giorni qui nel Palaterme di Montecatini. Centinaia di atlete provenienti da tutte le regioni d'Italia che nella due giorni al Palaterme si sfideranno in qualità di soliste, formazioni in duo, piccole formazioni e gruppi con bastoni, bandiere, nastri e pompon, suddivise per età nelle tre categorie, cadette, junior, senior. Sicuramente la città che ci ospita in maniera eccezionale avendo questa vocazione riesce sempre a dare il massimo e questa forma di accoglienza per questo turismo sportivo, così possiamo chiamarlo, ci dà a noi la possibilità e la maniera agevole di poter mettere in piedi queste grandi kermesse che in altra maniera sarebbe davvero non possibile realizzare. Qualche numero su questa edizione? Questa edizione è la quinta edizione del campionato nazionale, le squadre vengono dalla Sicilia fino al Trentino Alto Adige, quindi tutta l'Italia è rappresentata senza tralasciare nessuna regione, 24 gruppi da tutta la nostra penisola.